Villino Campi, l'ex centro di valorizzazione scientifica della provincia, sta cambiando ufficialmente indirizzo di destinazione. Al suo interno ci sarà un caffè, un bar, una pasticceria o una gelateria. Insomma, un nuovo locale di una certa eleganza e non solo ad esclusivo uso dei bagnanti. Cosa di preciso lo si saprà a conclusione del bando che sarà indetto sul finire di questa settimana. Gli spazi che saranno messi in locazione sono quelli al pian terreno per i quali è prevista la ristrutturazione degli interni, parte a carico del comune e parte a carico dell'aggiudicatario. I futuri gestori potranno usufruire di circa 85 metri quadri di plateatico e ben 5 posti auto riservati alla clientela. Aggiudicato il bando, la cui assegnazione è prevista per il mese di maggio, inizieranno i lavori di rifinitura degli interni, con la previsione di permettere l'apertura dei battenti già per settembre.